Italia Informa Siamo alla Star Conference qui a Borsa Italiana, qui a Milano e il segmento Star riguarda quelle siti che c'è PMI ma in realtà queste sono multinazionali tascabili, tascabili poi fino a un certo punto perché hanno livelli tasca grossa quindi siamo un po' l'elite nel campo delle PMI quindi incontrano gli investitori, sono in vetrina, investitori istituzionali, un appuntamento è diventato molto importante che si svolge appunto a Milano e a Londra in autunno a Londra e in primaria a Milano, è l'occasione appunto a Milano anche di presentare l'andamento del bilancio dell'anno precedente e appunto siamo con il dottor Simone Pratesi che è CFO e Investitor Relations di B&C Speakers SPA. Intanto cerchiamo di capire un po' cosa fa questa azienda e poi i risultati dell'anno trascorso del 2018 approvati dal CDA. B&C è un gruppo di aziende, non solo un'azienda che ora racchiude tre aziende con tre brand che sono B&C, 18Sound e Chare che è un marchio piuttosto noto nel settore del car audio in Italia da tanti anni che progetta, costruisce, realizza e vende in tutto il mondo trasduttori elettroacustici cioè i normali altoparlanti, i driver e i tweeter che vengono usati nel settore professionale quindi siamo il fornitore dei costruttori di impianti da concerto in tutto il mondo e a parte i concerti queste stesse casse derivazioni di queste stesse casse sono quelle che sono l'installazione fissa nei teatri, nei cinema, nelle discoteche, nei karaoke nei grandi aeroporti, nelle grandi stazioni dove c'è una necessità di rendere intellegibili i messaggi anche a distanza per ragioni di sicurezza o informative soprattutto con le paure del terrorismo e tutta questa cosa nel campo dell'acustica professionale settore che si è molto lievitato e aumentato negli ultimi vent'anni per la rivoluzione che c'è stata nel mercato discografico venti anni fa gli artisti guadagnavano i loro soldi vendendo i dischi e promuovevano i dischi facendo concerti oggi solo poche star al mondo riescano a vendere la loro musica mentre si dice un po' volgarmente nel nostro settore che gli artisti sono dovuti tornare a lavorare cioè tutte le sere devono montare su un palco e affrontare il pubblico e quindi si è molto incrementato il numero dei concerti e anche il prezzo del biglietto di conseguenza per pagare l'artista e quindi anche l'aspettativa qualitativa del pubblico perché se paghi un biglietto elevato vuoi stare a sedere e vedere un bellissimo spettacolo di luce e suoni noi che siamo il top di gamma mondiale in questo campo di settore abbiamo avuto un ampliamento del mercato seguendo questa ondata tecnologica e di sviluppo del mercato dell'audio professionale e ne siamo diventati leader a livello tale che siamo l'azienda dominante al mondo nel campo dell'alto di gamma del professionale Per quello che riguarda i risultati abbiamo avuto i ricavi che hanno avuto un balzo al 35% ma a perimetro nuovo perché c'è stata un'acquisizione però comunque i ricavi a perimetro costante erano sopra il 5% è stato un anno, mi sembra positivo, tutti gli indicatori sono positivi ho visto nel bilancio del 2018, è soddisfatto? Molto soddisfatto, abbiamo fatto un bilancio che è record in una storia di oltre 70 anni perché l'azienda ha 71 anni quindi ha una lunga storia non solo in termini di crescita che è stata la normale buona crescita che abbiamo tutti gli anni abbiamo un tasso di crescita medio di quasi il 9% organica negli ultimi 22 anni non un periodo di osservazione limitato ma a 20 anni abbiamo un tasso di crescita così abbiamo aggiunto l'acquisizione di 18 Sound che ha comportato un salto dimensionale importante abbiamo raggiunto i 55 milioni di ricavi mantenendo una marginalità molto elevata perché facendo elettromeccanica riusciamo ad avere un EBITDA superiore al 20% e quindi un profitto molto elevato in relazione alle dimensioni e quindi una capacità di autofinanziamento dello sviluppo e dell'innovazione molto forte Quanto pesa ricerca e sviluppo nel gruppo? Circa il 5% dei ricavi e il 10% dei costi ma prefisco parlare in termini di capitale umano abbiamo 19 persone nella ricerca e sviluppo su circa 160 dipendenti di tutto il gruppo al giorno d'oggi talvolta mentalmente faccio il conto che il nostro gruppo di ricerca e sviluppo è più grande della somma di tutti i nostri competitor mondiali messi insieme perché siamo veramente diventati un'azienda che in questo mercato è molto importante di riferimento E poi lei è fortunato perché ho visto che non paga tasse, non lei, l'azienda, perché? Beh, quest'anno ha visto bene nel senso abbiamo un effetto straordinario dovuto all'application sul patent box che facciamo nel 2015 abbiamo avuto sostanzialmente uno sconto molto forte sul tax rate e permanente per tutta la vita ma che abbiamo portato 4 anni insieme nel bilancio di quest'anno perché il ruling l'abbiamo completato nello scorso autunno in pratica riconoscendo lo Stato italiano il valore del know-how dei brevetti, dei marchi e dei disegni che abbiamo registrato nella nostra storia ci ha dato uno sconto delle tasse che ha portato il tax rate ad abbassarsi da circa un 30% a meno del 20% e 4 anni sono cascati nel bilancio di quest'anno per cui sembriamo un'azienda ad un paradiso fiscale trapiantata in Italia vede che tante volte il pregiudizio sull'Italia, sulla tassazione è un po' esagerato Comunque questa del patent box è stata una bella iniziativa perché noi eravamo fragili, siamo ancora, in generale fragili bisogna incentivare e spingere quindi secondo lei rimane uno strumento valido? Tutto quello che stimola l'innovazione, la proprietà intellettuale, il branding la protezione del nostro stile e della nostra inventiva è meritorio, direi e questo credo pochi lo possono discutere il sistema dell'incentivazione fiscale può essere un valido strumento rispetto ad altri cioè noi ci finanziamo tutte queste cose da soli però se lo Stato che non gli chiediamo soldi ma ci riconosce uno sconto fiscale meritocraticamente mi sembra un ottimo sistema Guardiamo invece il fatturato tra mercato domestico e mercato estero e aree estere voi avete reti commerciali in tante parti del mondo e poi mi interessava, perché lei mi diceva, guardava un pochettino al futuro è presente anche al futuro la Cina, però con qualche difficoltà Allora noi siamo un'azienda globale vendiamo ormai il nostro prodotto in tutto il mondo a tutti i più importanti costruttori di sistemi audio al mondo ormai l'Italia per noi rappresenta meno del 10% abbiamo circa un 25% delle vendite nelle Americhe un 25% nel Far East in cui la Cina forse come singolo paese ormai è diventato il primo paese di esportazione per noi e un 50% in Europa dove ci sono costruttori di grandissimo livello tecnologico e dimensionale La Cina è un'opportunità, si è sommata negli ultimi anni in misura forte è il paese su cui abbiamo il più alto tasso di crescita la distanza è notevole, noi facciamo un prodotto molto qualitativo con cui riusciamo a essere il primo marchio importato in Cina però pensiamo in prospettiva per continuare a crescere di essere più aggressivi su una fascia intermedia e per far ciò dobbiamo andare a produrre là sia per il mercato cinese e per i costruttori cinesi che stanno crescendo enormemente ma anche per i produttori americani che nonostante Trump a tutt'oggi fanno un outsourcing molto spinto in Cina e quindi tutti i brand di audio americani costruiscono ancora oggi tanta roba in Cina quindi per essere più vicini ed evitare non tanto i costi di mano d'opera ma questa logistica assurda in cui molti componenti vengono dal fariste li incorporiamo nel nostro prodotto e poi lo riesportiamo nel fariste pagando due volte dazi e trasporti è veramente un assurdo che ci rende poco competitivi in un settore un pochino più borderline in quell'atto di gamma non abbiamo problemi neanche con l'attuale produzione tutta in Italia quindi la possibilità di produrre fuori app casomai riguarda solo la Cina eventualmente eventualmente sì e per questi motivi logistici non certo di risparmio mano d'opera la complicazione è le risorse e le risorse umane da trovare giuste per un progetto del genere siamo un'azienda di 160 persone non siamo l'Apple per cui trovare le persone giuste da mandare lunghi periodi là non è banale bene io la ringrazio moltissimo ci ha fatto un quadro di grande interesse ricordo il dottor Simone Pratesi che è CFO e Investor Relations di BCC io dicevo BB&C pensavo all'inglese invece no ma siamo rimasti all'italiana eravamo partiti con BB&C ma quando ci siamo affacciati all'estero ricevevo una lettera dalla televisione inglese che dice mi dispiace so che fate altre cose però noi abbiamo registrato il marchio in tutto il mondo in tutti i settori vi preghiamo di cambiarlo allora si fece cascare la B centrale la trasformiamo in una B e C ma tanti anni fa ora ci conoscono tutti come B e C e siamo orgogliosi del nome che portiamo bene dottor Pratesi grazie mille davvero grazie direttore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti